La corale Bella Ciao dedica questo 25 aprile alle vittime di questa terribile pandemia, ai medici, agli infermieri, a tutti quelli che sono in prima linea per vincere questa battaglia. Bella Ciao è un canto universale di libertà che si canta in ogni luogo del mondo dove si lotta contro le guerre, le dittature e per i diritti umani. Restiamo uniti, ce la faremo. Buon 25 aprile con la corale Bella Ciao. Noi cantiamo il settore del sociale che va dal canti del lavoro, non i mestieri, come dice qualcuno. Noi cantiamo il lavoro con la sua valenza sociale, economica e politica. Ci siamo accorti che all'interno del filone dei canti della montagna, della guerra, della Bella, i nostri canti della montagna, c'è un filone tutto da esplorare, i canti a contenuto sociale. Correndo qualche rischio, perché questi non sono canti neutrali. L'esistes ci sono accionali qui all'interno di un giocittamento. Calendo qualche cosa ki dance con la sua valenza muda, tiresette e cose sp Québec alla pensiera,алы che affer сделал un cono mondo che va dal canti del brocco здесь e cose sono aspettativeakan un solo per i diritti di un beneico, esempio credo che Wanga lo semence una Grazie a tutti.